Il cane è il migliore amico dell'uomo, si sa. La felicità e la gioia che portano in tante case fanno di quest'animale uno dei più studiati al mondo. Ma conosci veramente il tuo cane? Gli aspetti caratteriali, le curiosità e le sfaccettature di quest'animale strabiliante? Ecco tutto quello che volevi sapere sul cane. Alzare la zampa per fare pipì. Il cane sa benissimo che se alza la zampa l'urina viene spruzzata proprio all'altezza del naso, così da avvantaggiare la segnalazione di un territorio agli altri cani. Nascondere il cibo. Alcuni cani sono soliti nascondere il cibo che gli viene dato. Si tratta di un comportamento istintivo legato allo stato selvatico. Anche i lupi sono soliti nascondere parte della loro preda che non riescono a consumare. L'intenzione naturalmente è quella di recuperare il tutto successivamente, magari quando non abbonda altro cibo. Grattare il terreno. A volte capita che il cane dopo aver espletato i suoi bisogni si metta a grattare il terreno con la zampa. Sembrerebbe piuttosto strano e non capiamo affatto il perché visto che il cane, a differenza del gatto, non è solito ricoprire i suoi bisogni per nasconderli. Il comportamento è dovuto al bisogno di marcare il territorio grazie ai segnali che vengono lasciati dalle ghiandole sudoripare che si trovano sotto le zampe. Leccare in viso. È un atteggiamento tipico soprattutto dei cuccioli, quello di saltarci addosso quando ci vedono e di leccarci in viso. Il tutto può essere interpretato come un gesto di sottomissione, un modo per riappacificarsi. E non bisogna dimenticare che anche i cuccioli di lupo adottano lo stesso atteggiamento con la loro madre. In questo modo riescono a cibarsi di quegli alimenti che la lupa parzialmente rigurgita. Perché i cani inclinano la testa? Quante volte avete visto il vostro cane inclinare la testa, soprattutto mentre gli parlate? Secondo gli studiosi, i cani inclinano la testa per cercare di catturare un suono, soprattutto quando è acuto. Se ci mettiamo a parlare con i cani con un tono interrogativo ad una distanza di un metro o un metro e mezzo al di sopra della loro testa, la loro reazione naturale per cogliere quello che stiamo dicendo è proprio quella di inclinare la testa. Un altro studio ha dimostrato che il cane inclina la testa a causa della conformazione dell'orecchio, che riesce a cogliere frequenze inaccessibili all'udito umano. Di conseguenza, per cogliere queste frequenze che produciamo con determinate parole, cercano di sintonizzarsi meglio, inclinando la testa come si fa per le antenne. La coda tra le zampe Quando un cane è impaurito, mette la coda tra le zampe. Questo comportamento istintivo serve ad impedire agli altri cani di annusare la sua regione anale, che gli consentirebbe di riconoscerlo. In pratica, proprio come noi, se facciamo qualcosa di sbagliato, abbiamo l'istinto di andarcene e far finta di nulla, per non essere individuati come colpevoli, lui ha l'istinto di mettere la coda tra le zampe per non farsi riconoscere e non lasciare il suo odore alla portata degli altri cani. Perché i cani ululano? Ci sono razze canine che ululano più di altre, come nel caso del Siberianaschi. Nelle altre razze di cani, l'ululato ha perso parzialmente l'antico significato, ossia quello di trasmettere la propria posizione al branco. Può accadere però che i cani ululano soprattutto se vengono lasciati soli in casa. È la situazione di isolamento che spinge quindi i cani di oggi a ululare come naturale desiderio ancestrale di voler comunicare con i suoi simili, anzi con il proprio branco e quindi con l'uomo che spesso viene riconosciuto proprio come il suo riferimento principale. Quando i cani ululano alle sirene rispondono al loro suono in quanto alcune di esse hanno delle frequenze molto simili all'ululato. Perché i cani si rotolano sulle carogne? Si tratta di un comportamento del cane atavico. I lupi infatti utilizzano questo stratagemma, ossia distrofinarsi sulle carogne o sulle feci al fine di ricoprirsi dell'odore di qualche preda in modo da avvicinarsi ad essa senza che questa se ne accorga. Non tutti i cani però hanno questo comportamento, dipende molto dalla razza e dalla predisposizione alla caccia di quest'ultima. E perché si rotolano nelle feci? Il cane si rotola nelle feci per diversi motivi. Affermare il proprio dominio in quel determinato territorio, rinforza in altre parole il suo odore in modo che arrivi più lontano e sia riconoscibile dagli altri cani. A volte si rotolano perché ritengono che l'odore di una preda proveniente dalle feci di quest'ultima o della femmina o maschio oggetto del desiderio li possa rendere più interessanti. In altre parole dal loro punto di vista si stanno profumando. In altri casi vogliono togliersi di dosso un odore che non ritengono loro. Se siete di quelli che amano profumare il proprio cane sappiate che spesso per togliersi quello che loro ritengono un puzzo, ossia il profumo che gli avete messo, i cani si rotolano nello sporco. Un altro motivo è nascondere la propria presenza ai cani dominanti del quartiere di cui hanno paura. Quando il cane chiede perdono. Quando un cane vuole scusarsi col padrone. Tiene la coda bassa, la testa inquinata, la schiena curva, le orecchie basse. Questi sono comportamenti di quando erano ancora dei cuccioli e quindi tradotti in lingua umana vogliono dire io sono piccolo piccolo non ti arrabbiare. Per esempio si lecca il naso. È un comportamento che risale all'infanzia ed è collegato alla richiesta di cibo. Infatti il cane lecca il muso alla mamma. Con questo comportamento il vostro amico vi vuole dire sono indifeso non ti arrabbiare. A volte si mette a pancia all'aria riprendendo il comportamento del cucciolo. Sempre per sottolineare che è indifeso. Lo sguardo del cane che chiede scusa non sarà diretto in quanto lo sguardo diretto per il cane è sinonimo di spavalderia o di sfida e non è certo un segnale adatto per calmare l'interlocutore. Quando un cane adatta questo comportamento è inutile continuare a rimproverarlo in quanto i segnali descritti indicano che il vostro cane ha capito e che cercherà di non fare più quello che ci ha fatto arrabbiare. Queste erano solo alcune curiosità sul mondo dei cani. Se volete conoscere le altre seguite la seconda parte del video. Al prossimo video, ciao!